signori i mercenari 4 film del 2023 quarto capitolo con stallone stana bla 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 a parte che non c'è quasi nessun altro le scene di azione a parte una su una nave costana sono piuttosto diciamo montate la e tutto il resto è noia cioè praticamente non c'è non c'è trama se c'è un piccolo giochettino ma tutto molto prevedibile molto sei e mezzo e basta così un saluto a tutti soliti iscrivetevi al canale se volete lasciato lei ciao ciao